Ragazzi, benvenuti sul nostro canale di YouTube Junior Con Te. Oggi parleremo e cercherò di essere più semplice possibile nello spiegarvi il servizio, che è il colpo insieme alla risposta, il colpo fondamentale, perché è il colpo con cui si inizia lo scambio, quindi è importante impararlo bene. Partiamo dalla prima cosa fondamentale che è l'impugnatura. Quindi l'impugnatura che dovrò adottare per cercare di servire è l'impugnatura continental. Attenzione a non girarla troppo verso il vostro dritto, perché diventerebbe un'apertura troppo aperta, ma cercate di tenerla il più chiuso possibile, ok? Portatela verso il rovescio. Dopodiché, quando avete un'impugnatura quindi sicura, passiamo alla posizione delle gambe e dei piedi. Oggi vi parlerò del servizio con i piedi fermi, che si chiama anche foot back. Perché? Perché così vi aiuto e vi aiuta a stare più attenti alla posizione del corpo e a non ruotare troppo o troppo presto anche con le spalle, ok? Quindi partiamo con le gambe e i piedi ad altezza delle spalle, più o meno, anche leggermente più largo va benissimo. Il piede davanti, che per me è il destro, ma per voi sarà il sinistro, è leggermente in diagonale, ok? Attenzione anche qui a non portarlo troppo aperto, ma anzi, se non riuscite a lasciarlo così, piuttosto lo chiudete completamente parallelo rispetto alla rete, ok? E questa posizione dei piedi deve rimanere completamente ferma fino alla vostra esecuzione, quindi fino al vostro colpo e al vostro impatto finale, ok? Proviamo? Dopodiché posizionate bene i piedi, siete a posto, pensiamo al lancio di palla. Il lancio di palla va fatto con la mano non dominante, che per me, come vedete, è la destra, ma per voi, o meglio, quasi tutti, è la sinistra. Prendo la pallina in mano, parto dalla coscia, ok? E cerco di accompagnare la palla lasciandola all'altezza della spalla, in modo che io arrivi più o meno a tenermela, a mandarmela più o meno a ore 12. Fate finta di avere un orologio sopra la testa, ok? Ore 12 sarebbe il lancio perfetto, più preciso possibile, che vi aiuterebbe poi ad andare a colpire la palla in alto, all'altezza giusta, ok? Quindi potete anche partire iniziando solo a fare il lancio di palla per provare, eh? Quindi lancio la palla, ok? Posso anche riprenderla, oppure la faccio cadere, piano piano ancora lancio la palla, vedete il braccio che non è contratto, ma è decontratto, ok? Il braccio che tiene la racchetta, cosa fa nel frattempo? Mentre io inizio il lancio di palla, il braccio inizia a scivolare indietro, sempre decontratto, deve essere più morbido possibile, e a salire nella famosa e classica posizione a trofeo, ok? Attenzione al gomito, che deve rimanere bello alto, a non arrivare in questo modo, gomito alto, la racchetta dietro, pende, pende bene dietro la testa, per poi arrivare al momento più importante, ok? Il momento più importante che è l'impatto alto. Questo è l'obiettivo del nostro servizio, andare a colpire la palla più in alto possibile, ok? Proviamo? Allora, parto, braccia belle rilassate, decontratte, inizio, lancio la palla, vado dietro, e vado a colpire. Io non lancio troppo alto, perché ho un muro sopra, ok? Voi dovreste cercare di avere un muro davanti, magari, e avere il cielo, che così vi facilita anche il lancio di palla. Ok, non so se avete notato, la posizione dei piedi è rimasta la stessa. Nel momento in cui vado a impattare, altra cosa molto importante è cercare di spingere più in alto possibile con le gambe, con i piedi, e ricadere con la stessa gamba davanti in campo, ok? Quindi carico bene, da qui vado a colpire e ricado in questo modo. Bene, adesso vi farò vedere qualche esercizio, nel frattempo, adesso, subito dopo che vi ho fatto vedere questo, potete iniziare a cercare di migliorare il lancio di palla, quindi lanciare ore 12 e fare ricadere la palla davanti a voi, ok? In questo modo, deve sempre cadere davanti, attenzione a non mandarla indietro, ecco, per esempio così, va bene? Grazie.